ecco comparato siamo sopra il ponte ti faccio vedere la nebbia che scende tutta forza qua passiamo in zona stazione ponte cale a trava e vedi come sta scendendo la nebbia è un muro è un muro addirittura i napoletti neanche non si vedono bene ci arriviamo adesso verso il piazzale roma che ci aiuto ciao cio mio